Braccia incrociate dell'indotto di acciaierie d'Italia dalle 6 di questa mattina, sospensione ad oltranza delle attività è stata proclamata da IGI, l'associazione che riunisce l'80% delle imprese che lavorano con il siderurgico a Taranto. Sono garantite esclusivamente le prestazioni attinenti, la sicurezza degli impianti, ad aderire anche i case artigiani e Confapindustria. Non hanno ricevuto alcuna rassicurazione sulla tutela dei crediti vantati da acciaierie d'Italia. Temono, con l'amministrazione straordinaria che si intravede, di perdere ben 120 milioni di euro. Greco avverte che le responsabilità di ciò che potrebbe accadere non saranno certo ascrivibili a noi. Non parte al meglio la giornata che prevede alle 15 a Roma un incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Dall'USB ci si aspetta l'allontanamento definitivo di Arselormittale, garanzie per tutti i lavoratori, diretti, appalto e in amministrazione straordinaria. Nella breve nota di Palazzo Chigi in cui si fa riferimento al decreto legge che verrà approvato nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri, si sottolinea infatti che verrà tutelata la continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, fra cui l'exilva, dichiarazioni che vanno però del tutto verificate. Intanto a Radio 24 questa mattina il governatore di Puglia, Emiliano, ricorda che non esistono scudi penali nel nostro ordinamento, la Costituzione italiana non lo consente. Chiedere alla Repubblica di tenere esenti dirigenti di un'acciaieria è una cosa costituzionalmente insostenibile e questa è la verità nella disperazione di non sapere come tenere in piedi questa fabbrica. E poi l'attacco affitto, un fallimento il suo, quello di trattenere i franco-indiani, Urso adesso ha ripreso in mano la cosa e ovviamente gli ho ribadito che ci vogliono garanzie per le aziende dell'indotto.